Buoni weekend e weekend Ebbene sì, sarà quest'ora che si concluderà per lo scattare in un'altra ora Questa casa, incredibile Oggi ora è seguito l'altro e ci sarà il vero più costume Ma anche tanto altro vuole affatto Vedi che il sedizio è già giunto su questo Ah, c'è, no, è una massima altissima Perché ieri ero un po' teso perché eravamo vicini alla chiusura Non c'era ancora dei sedizio E allora sono stato un po' in mano Oggi però sei tranquilli, dai Alla prossima Alla prossima